Tra i veterani dell'Umbra del Colosseo chiaramente non poteva mancare anche quest'anno Antonello Costa. Antonello Costa sarà in scena quando? Saremo il 4 e 26 luglio e 6 e 27 agosto. Con quale spettacolo? Si chiama Kit Mancula World Tour, perché faremo Zagarolo, Tarneto Sabino, Sacrofano e Saracinesco. E come ogni anno sarà con me in scena l'Annalisa, 4 ballerine di l'Annalisa, quindi 5 bellissime ragazze e faremo il meglio del vecchio repertorio e dell'ultimo, perché l'ultimo spettacolo lo costa, un successo straordinario al Teatro Roma e da quello prenderemo 4, 5, 6 numeri nuovi e li alterneremo nelle varie serate, che saranno teoricamente sempre un po' diversi da l'altro, con una scaletta diversa. Ed è incredibile, guardavo che sono 25 anni di rassegna dell'Umbra del Colosseo, e io invece ne ho fatti 15, perché ho iniziato nel 2000, 15 anni, ero democristiano, vergine, bello, puro, ero puro, vergine no, però puro si, puro, puro vergine, puro lana vergine. E si, quindi sarà una bella cosa, vi aspetto, venite, tanti divertimenti, risate, ci saranno tanti personaggi, le macchiette, le canzoni, ballerine, cazzi e mazzi, e un po' di on a piacere. E certo, tu c'hai il tuo pubblico, poi si, il facebook, il pubblico attenzionato, quindi chiaramente... E' fortuna il pubblico mi vuole bene, mi seguo, però si, saranno quattro serate a legge, poi a Lomba del Colosseo c'è sempre una bella feeling, si crea un feeling bellissimo col pubblico, e quindi non vedo l'ora di tornare a Lomba del Colosseo. Ma poi quest'anno nozze d'argento, quindi figure 25 anni... Ah sì, 25 anni, festeggiamo la grande, i più grandi comici sono passati all'Omba del Colosseo, quindi esserci è un vanto, è una cosa molto bella. Potrei dire, quell'anno c'ero anch'io. Quell'anno c'ero anch'io, esatto. Perfetto, allora ti rivedremo prossimamente, un abbraccio. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.